ciao 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 come state? come state? io ovviamente spero che vada tutto 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 molto 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 bene benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video che come avrete detto dal titolo sarà dedicato ai film e la serie tv del periodo e mentre chiacchierò userò due trigger che sono uno già ve l'ho fatto vedere nel video di regali di natale ed è questo qui questo squishy che in tema film è azzeccatissimo questo squishy qui e e l'altro vabbè l'altro ve lo faccio vedere dopo facciamo così e prima di iniziare vorrei farvi però una premessa e praticamente non so se vi siete accorti ma manco tipo da un mesetto e spero che sia l'ultima volta che sparisco ma mi sembra che già vi avessi accennato il motivo per il quale insomma mi sarei no forse non vi ho detto che mi sarei allontanata ma vi avevo detto che febbraio sarebbe stato un mese molto 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 intenso e impegnativo per me pensate che non vedo il mio fidanzato da tipo tre settimane questo perché mi sono dedicata totalmente totalmente allo studio per il mio ultimo ultimo esame che ho dato il ventiquattro febbraio e quindi ho finito ho finito e ancora devo del tutto realizzare e me ne accorgo perché a volte è come se non avessi mai vissuto quel momento o tipo in dormiveglia quando mi sveglio la mattina mi capita di ripetere in mente in parti del programma insomma dell'esame e oppure accendo il computer e dico non posso perdere tempo devo ripetere cose mai capitate comunque non lo realizzo minimamente vabbè comunque l'importante è che è andato tutto bene tutto secondo i piani e adesso mi devo solo dedicare alla stesura della tesi o meglio devo completarla perché avevo già iniziato quindi spero di essere un po' più presente da adesso in poi e nulla questo poi devo dirvi altro no nessun'altra premessa credo e partiamo subito come sapete io divido questa sezione film come serie tv dai preferiti perché altrimenti verrebbe un video tipo di due ore quindi li divido come sapete e così magari per chi non è interessato a questo tema salta completamente direttamente il video e si gode i preferiti con cibi, accessori eccetera prodotti eccetera allora allora il primo film di cui vi parlo si chiama corsa contro il tempo e lo trovate su netflix e questo scuscio è troppo carino l'ho visto su netflix e mi è piaciuto tantissimo vi dico subito che ve lo consiglio perché è troppo bello tiene alta la tensione fino alla fine ed è ricco di colpi di scena fino alla fine e l'attrice protagonista mi piace molto perché è la è stata la protagonista anche di un'altra serie di cui vi ho parlato un tempo fa che si chiama gipsy la trovate su netflix anche questa anche questa super consigliata e poi se vi posso citare diciamo uno degli ultimi film che magari probabilmente avete visto è della serie che di cui sempre vi ho parlato su netflix l'ho vista e si chiama The Witcher è un thriller horror comunque ispirato a una storia vera e ve ne ho parlato recentemente cioè nell'ultimo video insomma quello dedicato ai film e dicevo questa attrice è protagonista interpreta una madre che accompagna la sua figlia a piccola scuola e poi va a fare la sua solita corsettina nel bosco e però diciamo il suo momento di svago viene interrotto da una telefonata alquanto scioccante che ovviamente metterà in un forte stato d'ansia e cercherà di insomma andare via da lì è molto adrenalinico nonostante praticamente tutto il film si svolge sull'unico punto cioè sull'unica zona ma vi assicuro che nonostante già sia nel bosco insomma diventa a volte claustrofobico perché c'è questa impotenza di questa donna che vi arriva proprio dritta questa sensazione è stato veramente mi è piaciuto perché cioè non è una storia profonda però è un vero e proprio thriller cioè poi ci sono tanti generi di thriller ci sono quelli di rapimenti a quelli con tema rapimento a quelli con tema assassini eccetera questo qui è proprio suspense pura cioè pure suspense fino alla fine quindi ve lo consiglio insomma poi passiamo a un altro film che si intitola i segreti della notte e anche questo è un altro thriller che però ho visto su prime sì ed è la storia di un impiegato in un hotel e questo ragazzo praticamente in questo hotel dove lavora questo ragazzo viene assassinato da una persona e lui diventa il primo sospettato e mentre vengono svolte insomma le indagini lui si legherà alla bellissima Anna De Armas attrice non ricordo come si chiama nel film però insomma l'attrice Anna De Armas che ha fatto Blondie il film ispirato a Merle poi ha fatto The Grey Man è stata la protagonista di Grey Man di Blade Runner e Acqua Profonde che pure ho visto è una serie con è un film con Ben Affleck molto molto bello ispirato a un romanzo se non ricordo male e e che stavo dicendo ovviamente ho appuntato tutto perché alcuni di questi film visti un po' di tempo fa e comunque anche l'attore è molto bravo e anche in questo film ci sono dei bei colpi di scena fino alla fine anche qui quindi se siete amanti di questo genere di thriller ve lo ve li straconsiglio entrambi io in tutto ciò sto registrando di pomeriggio perché purtroppo senza spiegarvi mille cose non posso registrare né stanotte né nei giorni successivi perché già so che fisicamente non stare al top perché è quel periodo lì di noi donne quindi era l'unico momento possibile a meno che non registri poi cioè la registrazione slittava tra una settimana e non mi sembrava il caso quindi ho deciso di farlo il pomeriggio sperando che fuori ci sia un po' di tregua i miei fratelli mi hanno promesso religioso silenzio ma bisogna vedere fuori appunto papà poi passiamo ah poi passiamo a un film che vi giuro non mi è piaciuto di più di più bellissimissimo l'ho visto insieme al mio fidanzato ci è piaciuto troppo mi ricordo che durava un bel po' ed è ispirato a un romanzo e si chiama si intitola qui mi metterò come sempre tutte le locandine e e niente il titolo ve lo dico io e l'amante di Lady Chattani è praticamente la storia di questa coppia lui è un ricco aristocratico ed è sposato con questa donna che è molto dedita a lui soprattutto dopo che lui ha un brutto incidente che lo costringe sulla seppia a rotelle e dopo questo incidente lui diventa anche impotente quindi non possono avere figli ma diciamo che a lui viene in mente un escamotaggio e in realtà potrei aggiungervi anche un altro dettaglio però non mi va perché vi assicuro che è bellissimo e vi piace mi può piacere quindi inutile che aggiungo altro fidatevi è proprio una bella storia romantica passionale mi piace mi è piaciuto tanto stupendo mi è anche commossa vi dico la verità e l'attrice ho segnato qui che l'attrice ha vinto il Golden Globe quindi bel film davvero non so se vi ho detto dove l'ho visto credo che non ve l'abbia detto ma comunque su Netflix lo trovate su Netflix poi 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 un altro film che ho visto prima di passare alle serie tv e cambiare trigger è Mr. Eragon's Bone l'avevo iniziato con il mio fidanzato ma l'avevamo iniziato a vedere troppo tardi infatti poi abbiamo rimandato la visione a un altro giorno che dura un bel po' devo dire vabbè poi alla fine ho continuato da sola la visione e questo questo film c'è il genere di questo film è horror è drammatico e lo trovate su Netflix lo avevo listata un po' mi incuriosiva vi dico la verità e mi è piaciuto sì nel senso che non lo so mi aspettavo un finale diverso nel senso che poi succedesse una cosa un po' più non lo so strong verso la fine invece non c'è stato nessun ci sono stati fuochi d'artificio verso la fine però dai è stato comunque scorrevole mi incuriosita forse così tanto che per questo sono rimasta un po' delusa alla fine non so che cosa avrei voluto in realtà però dai si può si può guardare dura un'ora e 46 minuti comunque un giovane molto giovane era più vicino questo ragazzino quando ha iniziato a andare una volta a settimana se non erro o tutti i pomeriggi non mi ricordo comunque a casa di quest'uomo anziano multimilionario che lo sceglie per andare a leggere dei racconti da quando era piccolo lui ha questa abitudine di andare in questa casa sfarzosissima di quest'uomo molto molto ricco e quindi si stringe un forte legame perché appunto lui cresce e continua questa insomma questa cosa che fa andando questi pomeriggi a leggere dei romanzi dei racconti a questo signore e fin quando fin quando poi insomma c'è una svolta in questa storia perché succede un evento che dopo di dopo succede un evento e dopo di ciò iniziano a susseguirsi eventi un po' strani e il ragazzo inizia a fare due più due anche se questa diciamo queste supposizioni che lui fa rispetto a cose che vede sono abbastanza palesi queste coincidenze che non sembrano può essere così tanto coincidenze lo inquietano un po' e cerca di capirci sempre di più e io non vi aggiungo troppi dettagli perché altrimenti è inutile se mi metto qui a raccontarvi e spoilerare odio spoiler quindi non cerco di non farlo nemmeno io però vi ripeto è carino poi poi passiamo alle serie tv e cambio trigger prendendo un questo è da un po' di tempo che non li usavo questi però non li ho mai provati non li ho mai provati non li ho mai provati questi qui questo è stato uno dei pensierini del mio fidanzato per il mio nomastico che è stato il 12 febbraio e ha tinto come sempre anche dalla wishlist di amazon dove tutt'è o la maggior parte tutte cosine che servono insomma per il canale che mi ha preso anche questi slime qua li apriamo vediamo un po' questo blue dye è era tantissimo tempo che non li favo adesso avete questi quattro colori ci sono anche fosfarescenti in realtà dovrò comprare prima o poi comunque c'è questo lilla questo verdino verdeacqua blu e arancione ok prima il blu wow adoro 9 ok ok allora ok allora ok le serie tv sono rimasta incantata da questo solo e pensate che la sto toccando pianissimo allora la prima serie tv che ho visto di cui vi parlerò è Inside Man è una miniserie Netflix il protagonista è un attore molto famoso che ha girato anche American Horror Story vediamo se qui ho appuntato il nome si il famosissimo Stanley Tucci non so se il nome vi dice qualcosa ma sicuramente se andate a googolare e vedete la insomma le sue foto capite subito perché è veramente abbastanza famoso ed è stato anche ha preso parte ha interpretato Nigel il diavolo vestebrata chi è che non lo conosce questo attore che è bravissimo ha fatto anche Amabili Resti Capitano America comunque e in questo il protagonista in questa serie protagonista interpreta un criminologo che però è in prigione perché ha ucciso brutalmente sua moglie e quindi a causa di Joe di Joe è in prigione cioè a scontare il castolo nel braccio della morte precisamente e praticamente lui collabora però con l'FBI per risolvere dei casi intricati perché giustamente a parte che ero un bravissimo criminologo ma poi insomma dopo quello che ho fatto diciamo che si potrebbe identificare abbastanza non nella mente dei serial killer o degli assassini quindi può essere di grande aiuto per l'FBI infatti lo è perché risolve molti i casi e è uno di questi casi per cui viene chiamato a dare un aiuto e è molto molto particolare e perché ci sono vari intrecci in questa storia e penso che comunque continuerà proseguirà con una seconda stagione con cui ve lo consiglio perché è molto bello è fatto molto bene e anche qui ci sono colpi di scena e vi incuriosisce perché vi chiedete come può mai andare a finire anche perché davvero poi siete curiosi di capire come andrà a finire perché durante il corso della visione ho cambiato varie volte idee su come poteva concludersi diciamo questa vicenda e consigliato poi un'altra serie che vabbè ve ne ho parlato diverse volte semplicemente perché è divisa in quattro stagioni io sono arrivata all'ultima quindi l'ho finito e da quello che ho capito insomma è l'ultima definitivamente non ne faranno più scusate lo stomaco è la serie Ed Sinner una serie stupenda ogni stagione ha una storia a sé stante e una più bella dell'altra davvero tutte storie particolari intricate e adoro il protagonista questo bravissimo investigatore in pensione e comunque in questo in questa stagione il detective Ambrose così si chiama si rega in vacanza appunto dopo la pensione e anche qui insomma verrà verrà risucchiato da un nuovo caso perché poi non riesce a fare a meno di fare il suo lavoro anche se in pensione e quindi non riesce proprio nonostante in pensione a non fare il suo lavoro quello che ama ossia aiutare le persone a risolvere casi e in pratica una famiglia della zona di quest'isola viene colpita da questa tragedia perché una ragazza è scompare e lui viene coinvolto dalla vicenda e inizia ad indagare e a scoprire che ci sono tantissimi segreti che insomma ruotano intorno a questa famiglia è molto molto bello bellissimo bellissimo davvero e non so se l'avete mai vista da Sinner ma vi consiglio di guardare tutto e quattro le stagioni il genere è thriller ma non horror thriller e bello mi è piaciuta anche quest'ultima poi passiamo un'altra serie che ho concluso e che è finita definitivamente anche questa e mi dispiace tantissimo è che Dead to Me è un tragico amico Netflix è la storia di queste due donne meravigliose che mi hanno fatto morire dalle risate adoro questo tipo di ironia sono troppo simpatiche e infatti ho scoperto che nella vita sono davvero così amiche e stupenda l'ultima stagione ossia quella che ho appena concluso è un po' diversa ha sempre questa linea comica tragicomica ma si sofferma su un tema abbastanza forte questa volta e viene trattata la morte in tutte le stagioni ma in un modo cioè le vicende sono davvero molto divertenti e però in questa stagione si fa tutto un po' più serio perché diciamo si si mette la luce una vicenda insomma non bella e e quindi inevitabilmente è un po' triste è e non mi aspettavo minimamente questo epilogo non mi aspettavo minimamente questa questo cambio di rotta però capisco anche che insomma era l'ultima stagione volevano lasciare il segno in qualche modo e un segno un po' più insomma strong e comunque mi è piaciuto lo stesso tantissimo e praticamente la storia di queste due donne cioè vi parlo dalla prima stagione di queste due donne che si conoscono in un modo veramente particolare cioè diciamo nonostante il motivo che le porta a conoscersi diventano davvero inseparabili e succedono tantissime vicende come vi ho detto molto molto divertenti è tragicomico questo è insomma il tema di queste serie di queste stagioni e tranne appunto l'ultima che si fa un po' più seria ma ve lo consiglio lo trovate su Netflix poi passiamo alla penultima serie che è mercoledì che credo avete visto tutti anzi sono curiosa c'è qualcuno che sta vedendo questo video che non ha visto mercoledì comunque beh il colpio Netflix è Tim Burton cioè ma di cosa parliamo infatti la scenografia è stupenda la fotografia è stupenda gli outfit i paesaggi cioè il set è tutto stupendo cioè si vede che insomma c'è l'impronta loro e mi è piaciuto tantissimo inutile dirvelo mi è mancato tanto quando ho finito di visionarlo e non vedo l'oresca la seconda stagione perché ovviamente dopo questo grande successo uscirà e come si uscirà e tra l'altro vogliamo parlare della bravura dell'attrice no vabbè che io già conoscevo perché è una di di protagonista una di personaggi principali in nella terza stagione di You di cui vi parlerò per ultimo e e tra l'altro solo dopo la visione ho scoperto che la professoressa è quella con i capelli rossi e era la vera la mercoledì adams di un po' di anni fa è la mercoledì adams storica e interpreta la professoressa cattiva insomma e poi ho appena citato You di cui adesso vi parlo perché praticamente sono uscite le puntate da un po' sono uscite le puntate da un po' però io appunto questo mese sono stata in stand by non ho guardato nulla e proprio in questi giorni ho iniziato a vedere You e sto alla quinta puntata so che comunque il resto delle puntate usciranno tra pochissimi giorni non so se continueranno insomma se ci sarà un'altra stagione non lo so però mi piace tantissimo e in particolare quest'ultimo è davvero figa perché allora a parte vabbè è ambientata questa volta a Londra comunque è sempre lo stesso protagonista però è un po' come i designer cioè il protagonista principale è sempre lui però le storie cambiano di volta in volta c'è le vicende cioè su cui si concentra la stagione sono sempre diverse con protagonisti diversi personaggi diversi e il filo conduttore il protagonista è basta e la sua storia ovviamente e comunque dicevo mi è piaciuta mi sto piacendo tantissimo perché sembra proprio un giallo di Agatha Christie mi piace proprio troppo il mood mi piace dove è ambientato i colori mi piace questo è proprio giallo cioè il come dire il il genere è lo definirei proprio giallo mi piace troppo cioè mi sta piacendo tantissimo e il protagonista è troppo bravo e sono curiosissima di sapere insomma una determinata cosa quindi infatti appena finisco il video vado a finirmi le ultime puntate e nulla poi non vedo l'ora tra pochissimi giorni tipo 5 non 4 uscirà sex life che ho visto tipo 4 volte e non vedo l'ora di vedermi la seconda stagione mi è piaciuta tantissimo come mi sta piacendo da impazzire questo questo slime no vabbè è stupendo è super crunchy cioè vi faccio un esempio io su trigger del genere potrei farci un intero video però ho capito che non vi piacciono troppo i video con solo su uno cioè quando lo propongo non ve lo filate più di tanto quindi ho rinunciato però io adoro i video con la voce tipo parlare piano e un solo suono di sottofondo ok stelline felicissima di aver portato a termine questo video io vi mando un bacione grande 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 e penso che il prossimo video sarà quello dei preferiti dove vi farò vedere finalmente tutte le cose prodotti cibo eccetera che vi voglio consigliare da un bel po' ma non ho avuto la possibilità di farli prima questi video vi ho spiegato il perché vi mando un bacione grande 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 buonanotte stelline mi sono tirando i capelli nel frattempo buonanotte 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 fate un beso buonanotte 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 buonanotte